Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi un video di briefing sull'analisi tecnica, quello che sta succedendo sul mercato. Bitcoin ha fatto qualche giornata di ribasso e in queste giornate di ribasso sta ritracciando. Faremo poi l'analisi ciclica lunedì come sempre, quindi guarderemo un po' tutti i dettagli. Si sta avvicinando la fase di metà aprile, verso il 20 di 19 aprile, se vi ricordate, che era la fase di chiusura del primo ciclo che attendevamo, insomma, dalla scorsa settimana vi avevo accennato. Ma ha fatto anche il testing della resistenza, di una resistenza abbastanza importante, quella a 5.400, è arrivato fino a 5.500 dollari per poi rientrare indietro. Ma vedremo tutto nell'analisi di lunedì. Cosa facciamo invece oggi? In questo briefing veloce del venerdì facciamo una cosa molto bella. Intanto vi apro uno dei miei grafici preferiti che non ho mai mostrato sul canale YouTube, è fatto sulla mia piattaforma di trading ed è uno dei grafici che prediligo e che utilizzo costantemente per fare analisi previsionali e per fare anche alcune operazioni di trading di breve periodo, con breve periodo mi riferisco a circa 4-5 giorni, trading però di natura discrezionale, quindi non il trading di natura algoritmica. Quindi questo è un grafico che utilizzo solo e esclusivamente per fare trading manuale e ho deciso di aprire questo grafico al pubblico, insomma ecco mostrarvelo oggi in questo video. È un grafico modificato ragazzi quindi non riuscite a ricrearlo con le normali piattaforme perché sono dati modificati. E poi guarderemo anche il VAI, il West Accumulation Index, la fine di questo video perché nella giornata di ieri, anche nelle precedenti, sta indicando dei cambiamenti rispetto al precedente ribasso che ce l'ha stato. Se non vi ricordate andate a guardare questo video sopra la mia testa che indica come nella scorsa settimana erano stati venduti più di 20.000 Bitcoin da parte delle balene ed era un segnale preoccupante. Quindi c'è stato un cambiamento, vedremo il grafico del VAI alla fine di questo video. Partiamo subito con l'analisi di questo mio grafico preferito, grafico che adoro. Allora ragazzi intanto quello che vedete qui è l'ultimo movimento rialzista di Bitcoin che va dalla 15 di dicembre alla giornata di oggi. Vedete un grafico con del time frame modificato che insomma è creato su base oraria ragazzi ma non è un 4 ore, non è un 6 ore, insomma è un grafico modificato abbastanza complesso utilizzato per eliminare del rumore il più possibile dal grafico senza intervenire attraverso l'utilizzo di alcuni indicatori. Quindi sono tecniche di natura quantitativa, queste sono la media 50 periodi o 200 periodi, li trovate modificati appunto per via del fatto che questo è un grafico modificato. Dalla incrocio di queste medie mobili ha indicato in sostanza un buon atteggiamento di rialzo anche del mercato. Ovviamente io prendo sempre questi dati con le pinze ragazzi, quindi non è che all'incrocio delle medie sono andato a fare trading, io rispetto sempre i segnali di ingresso provenienti dai trading system, dai segnali di natura quantitativa perché sono estremamente low risk, quindi vi consentono di operare sul mercato in maniera estremamente meno rischiosa che fare queste cose, insomma utilizzando indicatori semplici. Però gli indicatori delle medie come ho spiegato per esempio nel penultimo video relativo al mio corso di formazione come fare holding correttamente sul trading online, quello appunto relativo alla creazione degli strumenti su cui operare, andatevelo a vedere se non l'avete visto. In quel caso appunto questo incrocio mi ha dato il là, la possibilità di operare diciamo da un punto di vista long su questa cripto, ovviamente nel breve perché qui non siamo su un time frame daily ragazzi, quindi stiamo parlando di operatività daily. Un ottimo punto di ingresso era anche questo pullback sulla media 200 periodi di questo grafico modificato, ha dato dei segnali ottimi, quindi un ottimo segnalo di ingresso ma anche la rottura di questa eventuale trend line e quant'altro. C'erano diversi punti di ingresso qui abbastanza semplici da evidenziare, da verificare. Allora andiamo invece a noi e andiamo a vedere questa parte. Allora se questo rialzo noi lo consideriamo come facente parte ragazzi di un unico ciclo. Quello che vediamo qui sono i livelli di Fibonacci che in questa particolare situazione, anche per i segnali che ho avuto dal Vai che ripeto vedremo tra poco sul video, li preferisco, quindi in questa fase l'utilizzo di Fibonacci ci indica che questo attuale ribasso di Bitcoin è andato a infrangersi con il primo livello di supporto, quindi 23,60 che è un livello blando di supporto però in questo caso sta reggendo abbastanza bene di Fibonacci e sono dei livelli di supporto alternativi magari perché li possiamo utilizzare al posto delle solite e normali resistenze a supporti di natura statica, quelli disegnati direttamente sul grafico che in questo caso ci evidenziano un primo livello di resistenza ragazzi attorno ai 4008 che è qui, ma badate bene che visto che c'è questo grafico modificato guardate questa media mobile a 50 periodi come si sta avvicinando, quindi 4,670 potrebbe diventare un livello di supporto caso mai il mercato volesse andare in chiusura ciclica un po' anticipando i tempi, siamo al 12, noi ce l'aspettavamo intorno al 19 o comunque insomma fare una fase di mini pullback qui rialzista per poi andare in chiusura ciclica ma lo vedremo poi nel video di lunedì, questi sono i livelli che dovete tenere sott'occhio anche per fare trading intraday e sono abbastanza rilevanti, vedete come ha retto i 23,6 di Fibonacci, guardate qui come ha retto bene per più candele in questa fase, l'aveva già fatto qui precedentemente, una volta raggiunto questo livello di doppie è insomma un supporto che sta rendendo abbastanza bene, consideratelo anche non tanto per il discorso di Fibonacci quanto per il concetto che è legato al supporto di natura psicologica dei 5.000 dollari, quindi questo è un duplice supporto che avvicina sia quello dei 5.000 dollari a quello dei 23,6 di Fibonacci, altri livelli veramente importanti poi li vedete disegnati sul grafico, non mi dilungo a ripeterli perché è inutile, quindi questi sono livelli da un punto di vista intraday da utilizzare, andiamo adesso a vedere invece il grafico del vai per fare i nostri ragionamenti perché è cambiato qualcosa, ed eccoci sul grafico del vai, questo è il vai trend 2.0, vi mostro solo questo oggi ragazzi perché il vai 1.0 è lo stesso della scorsa settimana, trovate questo grafico e anche il grafico precedente che vi ho indicato, che vi ho fatto vedere e lo trovate sul canale Telegram di Trading On, l'iscrizione è gratuita ragazzi, quindi potete trovare il link in descrizione di questi video e iscrivervi gratuitamente al canale Telegram, c'è anche un video dove parlo ieri di questi due grafici che ho pubblicato. Allora il vai trend, guardate un po' che cosa ha fatto negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, ha ripreso vigore ed è ritornato in rialzo dopo quell'enorme uscita che c'era stata enorme sempre relativamente, prendiamolo con le pinze queste affermazioni, questi aggettivi, è ritornato sui suoi passi e sono rientrati sul top 100 delle big whales, quindi delle balene hanno ricomprato bitcoin a questi livelli di prezzi. Ora facciamoci un ragionamento perché ragionare su questi indicatori non è assolutamente semplice, quindi tenete un po' le orecchie aperte ragazzi. Cosa significa avere questo tipo di atteggiamento del vai? Intanto significa che le balene sono rientrati sul mercato del bitcoin riacquistandoli ai prezzi intorno ai 5.000. Allora come valutiamo questo dato? Questo dato è da valutare in maniera molto semplice, significa o significherebbe che le balene identificano questo tipo di livello attuale, questi livelli di quotazione di bitcoin come sostenibili. Ok ragazzi, sostenibili, dei 5.000. Cioè non identificano questi livelli come dei livelli di eccesso di prezzo. Questa è l'informazione che secondo me in maniera sintetica possiamo trarne ed è importantissimo da considerare e da considerare in questo modo perché significherebbe che in realtà non c'è un pericolo di ritorno immediato quantomeno magari ai livelli di minimi dei 3.000 e 3.100. Quanto meno le balene non si aspettano questo perché se noi ipotizziamo che le balene facciano degli investimenti anche di natura di trading e quindi non soltanto holding, allora a questo punto dovremmo aspettare che su fasi di massimo di eccesso di prezzo qualche balena magari decida di togliere questo tipo di liquidità, togliere un po' di liquidità dai bitcoin e quindi vendere i bitcoin e trasferirli in USD e perciò eliminare, dovremmo vedere un fuoriuscita da questi wallet. In realtà non c'è una fuoriuscita da questi wallet e guardate bene che il buy 1.0 è rimasto stabile quindi significa che in realtà non sono gli exchange che hanno comprato questi bitcoin, quelli che in questo rialzo che vedete ma sono le altre, gli altri wallet che magari si c'è anche dentro qualche exchange qui dentro ma non sono gli exchange più grossi quindi non sono operazioni fatte dagli exchange, questi sono fatti da wallet di privati per lo più ricconi diciamo in bitcoin ed è secondo me abbastanza significativo per indicare che probabilmente questo livello di bitcoin, questi livelli di prezzo possono risultare anche stabili, magari il mercato ha raggiunto un nuovo prezzo di equilibrio dopo quello che ce l'ha stato intorno ai 3.500-3.700 dollari, se vi ricordate era un prezzo di equilibrio abbastanza importante, aveva tenuto i mercati fermi per un po', magari questi livelli di intorno ai 4.700 mi pare se non sbaglio 5.200 quindi questo livello di oscillazione potrebbe essere ritenuto equilibrato per un po' di tempo vedremo poi col prosieguo del del mercato diciamo del tempo come il mercato gestirà questo livello di trading e bisognerà anche vedere come il vai evolverà nelle prossime settimane questo sarà importante da vedere perché se prenderà un trend ulteriormente rialzista sarà ulteriormente significativo di altro ma lo vedremo poi con calma, vi ricordo che il vai io lo pubblico nella nostra Trading Gun Academy per gli utenti premium ma è pubblicato anche nel canale Telegram e quindi lo trovate anche lì bene ragazzi è arrivato alla fine di questo video allora io volevo augurarvi come sempre buon weekend oggi sono fuori perciò non riesco a fare il mio solito video face to face chiamiamolo così iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vi ringrazio per i commenti che lasciate anche nei miei video ce ne sono stati alcuni nel video precedente quello relativo alle tecniche da utilizzare per fare holding sono stati fantastici, estremamente complessi tra le altre cose quindi complimenti a tutti voi perché fate dei ragionamenti da grandi trader e comunque non è facile su questo tipo di argomento su questo tipo di materia quindi complimenti a tutti bene buon weekend e noi ci rivediamo settimana prossima col prossimo video ciao